Vieni su, 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 vieni su seconda colazione, adesso sto tornando a casa e scrivo l'articolo della manifestazione, tanto per il quotidiano e il cartaceo lo devo mandare stasera, quindi ho tempo per gli aggiornamenti, anche per online ho tempo per gli aggiornamenti perché una volta che do il flash della notizia poi comunque l'articolo lo posso aggiornare senza problemi e quindi non ho problemi, sono rosa, rosa porcellino proprio, ma fa un caldo della miseria, cioè io sto squagliando, mi sto squagliando, cioè sono, cioè poi neanche a dire che sono vestita pesantissima, se lei devo attraversare, neanche a dire che sono vestita pesantissima perché vabbè questo è il più o meno, per padre, ok, allora ho il più o meno, poi ho la camicia, ho la lavalier, quindi è quella col fiocco e poi ho un gilet, quindi non dovrei avere così caldo, va boh, vi saluto, a dopo, ciao! Di cani matti ne abbiamo, ma certo che ne abbiamo, ed eccolo qui! Romolo, Romolo, quello di mamma è meglio se è carino, 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 dov'è il tuo fratello? Eccolo, è comorittoli, ciao canetto, ciao, sì ti amo pure a te, però fammi fare giocarezza pure a lui, ciao cani, ciao cagnolino, ciao bubbo, ciao, come ti chiamo? Ma ciao bubbo? Ecco, allora, sono andata con mio padre a fare la spesa e poi mi sono fatta lasciare in tappezzeria perché dovevo comprare il cordone per fare il sacco di bobbolo dalla mia nipote, praticamente questo cordone non si trova, cioè come dico io non si trova e alla fine ho dovuto prendere un nastrino, adesso come rientro a casa ve lo faccio vedere, non so se prima pranzo o meno, dipende se mio padre ha già messo su, io durante la, cioè durante il giorno sto a casa mia perché così ho internet senza problemi, mentre poi la sera torno a casa con Marco e torniamo appunto a casa, oggi anzi lo devo andare a prendere io e non mi devo scordare perché ieri mi sono dimenticata e praticamente mi ha ricordato lui alle 7 e un quarto che dovevo andarlo a prendere e lui gli dà le 7 e mezza e sono arrivata una, aspettate, ecco, un tipo decina di minuti dopo, vabbè, niente di che, e oggi fa, cioè un tempo di schifo, non so se potete vedere, adesso fa più freddo, questa mattina fa, la temperatura è un po' scesa, o io l'avverto più leggera, più fredda, però vabbè, scusate, e basta, basta, adesso arrivo a casa, prima vi ho fatto vedere i canidi, i bozzoidi, e basta così, a dopo, ciao ciao! ma non ci sono top in America e ci regalano il formaggio stavo guardando con papà una puntata dei Simpson, adesso è arrivata pure mia madre e praticamente mi è venuta in mente questa canzone, io lo so di che cartone è, è un cartone di diversi anni fa, vediamo se voi ve lo ricordate, mettetemelo qui sotto la risposta e per il resto adesso mi metto a lavorare, perché devo scrivere, iniziare a scrivere per il cartaceo, e poi verso le sette devo andare a recuperare Marco, ancora non sappiamo cosa facciamo per cena, cosa faccio anzi per cena, pensava, in realtà il programma era il couscous, però non lo so, può essere pure che cambiamo e prendiamo il kebab, perché ieri si era parlato anche di quello, c'è un negozio appunto che fa kebab, prodotti etnici chiamiamoli così, vicino ce l'abbiamo per strada per arrivare a casa e spesso ci fermiamo è comunque una cosa veloce e che non richiede molto impegno poi per lavare i piatti o roba del genere, per tanto ci fermiamo anche lì, e basta, e per il resto adesso appunto ho detto mi metto a lavorare, niente di sconvolgente, ah il nastrino che ho preso per il coso, il sacco di bubù natale, aspettate eh, se lo scontino, è così, aspettate eccolo qui, così, natalizio, quindi perfetto per fare il sacco, io continuo a guardare di qua, in realtà dovrei guardare qui, qui, quindi perfetta, e quindi ecco questo qui lo metterò per chiudere appunto il sacchetto di bubù natale, e detto questo sto, con questa, eh questo è il gilet che vi dicevo, sopra mi ho messo un maioncino di mia madre, è il gilet che vi dicevo, il pigiama, nei pantaloni del pigiama, che praticamente scende giù così e ha le frange, e poi vabbè ho questa camicia con il fiocco, e niente, basta così, quindi probabilmente ci rivediamo stasera, nel caso così non fosse, vi saluto adesso, ciao! Grazie!